Abbiamo avuto un'idea geniale, visto che ci chiedete costantemente di riportare alcuni giochi per il telefono, ma non sono andati per una miniserie Abbiamo deciso di portare anche qui il tre giochi in un solo video Ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Stef, è questo oggi che mi ha debattuto? E oggi siamo qui con il primo episodio del tre giochi in uno Visto che tanti giochi per cellulare ce li richiedete, abbiamo deciso di metterli assieme, un po' come facciamo con le mappe di Roblox Esattamente, per il primo video abbiamo deciso di fare The Battle Cats, che ci avete chiesto tantissimo Steppy Pants, che ci è piaciuto tantissimo E Crazy Taxi Simulator Facciamo questi tre e mettiamo subito un sondaggio dove potete votare i prossimi tre giochi per il prossimo tre giochi in uno Ok, quante volte hai detto giochi? Tante volte I tre più votati? I tre più votati, che non sono giochi Ok, sono altre cose Saranno i prossimi tre giochi che appunto faremo nel tre giochi in uno Basta, basta Cioè, stai esagerando, ma ti sembra che dobbiamo iniziare un video in questo modo? Non hanno capito nulla Si, è capito tutto Comunque, iniziamo subito Abbiamo nuove truppe, è vero? Lo so già, lo so già, lo so già Sì, ma tu puoi anche sapere già Sì, non le ho viste ma so che ha sbloccato cose nuove, quindi sono curiosissime e non vedo allora Esatto, guarda, ti faccio un po' lo spoiler Ma non si capisce niente da queste figure così piccole Dovrei aspettare con molta calma, anche perché costano un sacco di soldi Ho visto, ho visto Quindi dovrai stare molto calma e aspettare di vederle Allora, dove siamo? A Singapore Ti dico, ti ricordi, la tua preferita era quella con l'ascia? Sì, sì, il mio gattino preferito Forse ne hai una preferita Allora ho notato che questa qua è gigantesca come mappa Infatti ho già portato i soldi a livello 4 È una cosa incredibile Molto, molto grande Noi ne approfittiamo, credo di mettere un bel tank così li tiene a bada E cerchiamo di potenziare nuovamente i soldi Dopodiché usiamo la nostra solita tattica di usare la mossa speciale E mi sterminiamo tutti e parte il contrattacco con le nuove truppe Vai 3, 2, 1 È sempre l'attacco più bello, è sempre l'attacco più bello C'è poco da fare, c'è poco da fare 1350, ci esce, ci esce Allora, partiamo dalle nuove truppe, da queste due Secondo te che cosa sono? Non lo so Allora, uno sembra che abbia un martello tipo di Thor E l'altro cos'è? Un ninja Allora, questo è il vichingo Oh mio Dio, allora il vichingo non era l'altro, è questo Esatto, guardalo Ma che bello Guarda come attacca Guarda come attacca Ui 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 Io amo questo gioco Lo amo, lo amo, è troppo bello E invece C'è ogni truppa ti sorprende ancora di più Guarda l'altro Non è un ninja, è un cavernicolo Sembra, capito Uscita dal Jurassic, mi sa che dice I Flintstone, capito I Flintstone che si vestivano così Oh mio Dio, è bellissimo Ed eccolo, e anche lui salta e attacca così con lo sicino Che bello E sono bellissimi Che bello, vorrei prendere a colpi di prova anch'io le persone Questi due sono carini a prima vista Ma adesso li vincono una partita Guardali, guardali Ci sono solo loro due vivi Cioè sono carini e pure fortissimi Esatto Guarda, guarda Guarda lì Chi li ferma? Dimmi chi li ferma? Una cosa che neanche Stefano aveva visto 1300 per una sola truppa È il gigante dell'attacco dei giganti Che ne siamo fissatissimi I manga qui dietro lo dimostrano Oh mio Dio, che cosa bella Cioè è uguale È bruttissimo Esattamente come i giganti dell'anime del manga Esatto Cioè ma ti sembra Non è bellissimo il capolavoro Dimmi che loro non vincono da soli Perché te l'ho detto Sono fortissimi Ma chi li ferma? Guardali Cioè sono già lì Aspetta dai Aspettate un attimo Dai che arriva Voglio vedere come attacca il gigante Ah però dai hanno messo un sacco di omini Forse adesso vengono ammazzati Guarda gli omini Eh sì sono fortissimi Eccolo Eccolo Pesta Calpesta Ma che moda era? Ah dai pugni potenti Dai pugni Guarda quanti gli ammazza la volta Carica No, carica un pugno e lo dà Vedi No vabbè Allora Io voglio vedere Quanti danni fa adesso Alla torre appena ci arriva Perché adesso ci arriva Sì a voglia È un po' lento a caricare Io speravo Che calpestasse Guarda Eh vabbè Guarda È già finita sta partita Non c'è stata neanche la battaglia Davvero No sì ma vatti Da quando le nuove truppe È diventato troppo semplice Ti dicevo io speravo calpestasse Oppure che si mangiasse le truppe No vabbè Mangiare dai Ok che sono cagliolini contro gatti Però nell'attacco dei giganti I giganti si mangiano I soldati Vediamo Abbiamo una cazzoletta È un po' macabra da dire ma è così Appunto Non volevo vederlo anche in questo gioco carino carino Vediamo chi troviamo Dai Qualcosa di figo Che cos'è? Che cos'è? Pesce e gatto Fish cat Pesce e gatto Ok lo voglio Vai Farà parte della nostra squadra Giusto? Sì Produzione al massimo Siamo al mare con le Maldive Strabello E te l'ho detto Qua dovremmo prendere il sole Però non combattere No qua mettiamo il pesce e gatto È perfetto Giusto perché siamo insieme a col mare Vabbè Esatto Mucca Sei pronta? Mucca sì E mucca Ma è velocissima Si corna? Si corna con le corne Guardala Guardala Sta andando a vincere il rito da sola No è bellissima Io l'amo sto gioco Non fa Continuare a riportare all'inferito È troppo bello Guarda anche sulla torre No aspetta Stai calmati Dobbiamo provare il pesce Stai calmo Ok arriva Che brutto Arriva il pesce Vai pesce Vedi di bocca attacca Ma è un piragna È un piragna È un piragna Ma con che cattiveria Aspetta io voglio un'altra mucca Guardala Vai mucca Vai mucca Vai mucca Vai Vai E poi perché è colorato Invece i nostri Non sono mai colorati È un'ingiustizia Sono gelosa Anche io volevo la mucca Tipo colorata Tipo rosa Guardala Guardala Guarda chi ti ha evocato Nel mentre Eh vabbè Ha detto Non posso mancare al party Eh no Vi state divertendo troppo Senza di me Ci sono anch'io Che sono bellissime E devo assolutamente Venire qua Questa è la scena Più strana del mondo Ma la terrò nel cuore Non me la dimenticherò mai Sarebbe una barzelletta Cosa c'entra Una mucca Un pesce Un gigante Tutti e tre gatti Alle maldive Conquistano le maldive Non faceva ridere Però è così Allora Abbiamo finito con The Battle Cats Se no ci rimaniamo Troppo 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 Io vorrei Capito Evitare il tre giochi In uno E fare solo questo Lo so Perché mi piace troppo Mi piace troppo Però è ora di spostarci Quindi andiamo su Steppy Pants Facciamo anche i cambi Così in diretta Ti è piaciuto? Sì molto Che è originale Che al PC non possiamo fare Ma che al telefono Invece possiamo Speriamo che vi piaccia Questa serie Perché noi ci teniamo Troppo troppissimo Perché è troppo figo Perché sono giochi che Dai per una serie Secondo me non vanno Troppo bene A parte le Battle Cats Che secondo me va bene Anche per una serie No ci puoi fare una serie Di 550 episodi Te lo dico Steppy Pants Non puoi Allora Io qua ti devo dire una cosa Noi siamo ancora fermi A 400 miseri metri Sì ma a me sta prendendo in giro Invertendo Me lo metto Eh ho notato Ho notato Mentre invece i consolini Sono arrivati a troppi mila metri Lo so Proprio non solo hanno superato i mille Ma sono arrivati anche a 4.000 6.000 Devo essere sincero 6 chilometri Un po' perso fiducia in me stesso Quando ho visto il loro screenshot Ho capito Sì ho capito Quanto siamo scarsi Esatto Proprio per questo motivo Io non li devo deludere E devo arrivare da 400 a 600 metri In pochissimo tempo Ok Per far capire Che anche io Merito di stare a tre consolini E che non sono una schiappa totale No ma loro sono tipo a 6 A 4 chilometri 6 chilometri Certo 200 metri non basta lo stesso Lo so ma è giusto Capito È un gesto Sì ma secondo me non ti accettano Era quello il senso Non ti accettano A te non accettano comunque ok Io sono A 18 chilometri Quando? Non è le prove che non sia così Quindi io posso dire quello che voglio Certo Non è che ce l'hai installato nel telefono Ecco l'unica prova No l'ho installato Ho giocato due minuti E l'ho distrutto Mi stai distraendo Non sono una persona paziente Mi dispiace Lo sappiamo Lo sappiamo Lo sappiamo Che non sono giochi adatti a te Esatto No io non ci riesco No devo essere sincero Hai perso tutta la mano Sì pensavo di tornare più forte che mai Invece sono più scarso che mai Ciao a tutti i nostri spettatori Oh mamma mia Questo gioco Risco a giocarlo solo Se non sto parlando Capito E beh devi stare Tanto concentrato Che mi sembra anche normale Esatto Comunque 5,60 Steph vuole arrivare Ai 600 Che tanto ha promesso Mamma mia Ma come ho fatto quel pezzo 5,80 Ci siamo Ho fatto un pezzo Che normalmente Non riuscire mai a fare Va bene Non parlare Non parla Parla poco Dai che siamo arrivati Parla poco tu Boh Dai che poi si scarcia Guarda Che scarso Mamma Vedi Vedi Stai fermo Poi con il cellulare Stai fermo Allora Sì zitto Fermo Se mi vuoi pure Legare ad una sedia E parlare da sola Sì perché quando stai zitto Vai meglio Capito Vedi Sì Perché è respirato Non devi neanche respirare Mi sembrava scontato Quello scusami Non mi fa ridere Ecco Devi anche ridere Vedi niente Una mummia Non ce la faccio più È fatta Finalmente Leggete quel numero 600 600 E adesso dovremmo avere L'altra cosa sbloccata Teoricamente io vado qua Qua No lì Lì c'è scritto Uno su quattro Mancano Ah no Mi dispiace Mi dispiace Sapevi male Io ho già rininstallato Un po' dei probabili Che ci richiederete Ad esempio Rodeo Stampede Quello del ninja Clumsy Ninja Poi c'è Headball Socher Quindi ho rininstallato tutto Perché in molti di quei giochi Ho perso tutti i salvataggi Quindi su Rodeo Stampede Sto rigiocando Per recuperare tutto quello perso Su Headball Socher pure Mi è andata un po' male Con quelle cose lì Li avevo disinstallati Però di solito Mi rimanevano Eh ci sono qualche problemino Con la connessione al Google Play E non sto salvando i dati Vabbè Facciamo Quello del car armato Vai Sì Mi sembra giusto Dato che ormai Lo facciamo sempre in GTA Continuare pure qua Esatto Car armati everywhere Pronti? Sì Prontissimi Concentrata Dobbiamo riuscire a fare Almeno 5000 gold Ovvio Non mi ricordo neanche se sono tanti O pochi in sto gioco Ma voglio fare 5000 Non lo so Vabbè Tu vai Comunque Come vi ricordate Qua invece che schivare tutto Dobbiamo colpire tutto E più cose colpiamo Più punti facciamo Il tempo è 40 secondi Ma possiamo trovare in giro Cose da raccogliere Che danno più tempo Non mi ricordo più i comandi Ok Ci sei Bravissima Così era Sì Benissimo Vai prendiamo un po' di tempo extra Poi distruggiamo tutto qua Bene così Curva che suonda le macchine Bravo Stef Bravissimo Tempo in più Questo non so cosa sia Ma lo prendo Prendi tutto quello che vedi E questo che fa? Ho sparato davanti a me? Hai sparato E sei andato pure velocissimo Ma che figata Tra bello Bello questo Tempo extra Sta andando benissimo Polizia Spim Spim Ci dispiace È per la missione Così è la vita E va ti dice Insane Vai 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 Continua Stai andando benissimo Sei un carri armato fortissimo Se la puoi fare Ho perso per il bonus tempo No Suondo anche questo Prendilo Giro Vai No 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 È andata È andata Guarda quanti gold 10.000 Wow 10.000 In una sola volta Tantissimi Oggetti sfasciati 42 E ti ricordi che la scorsa volta mi aveva detto mediocre Questa volta grande Esatto Perché mi pare che la volta scorsa ne avessi fatto tipo 21 Se non ricordo male Quindi ne hai fatto il doppio Bellissimo Bravo Se non sbaglio hai 4 clienti forse Penso di averlo letto prima che iniziassi la sfida Se non ho sbagliato Ok Quindi tu vai veloce e cerca di farli il prima possibile Sbattendo ovunque giusto? No Così? Allora in questo caso li devi schivare Non li devi prendere Davvero? Non sei più un carri armato Ah ok E continua a prenderli Ok Bella curva Adesso devo rigirare qua Ok Più o meno Schivo Rigiro E Freno velocissimo Ok Perfetto Però solo 3 secondi Più quelli che mi dà extra Non credo che riusciremo No hai 17 secondi Dai dai ce la puoi fare Non è male Non è male Ok provo a concentrarmi tantissimo Bravo Vai vai Curva Benissimo Devi fare le curve un po' più strette Questo è l'unico tuo difetto Schiva Curva Ce la faccio Ce la faccio Ah no ma ancora Vedi altri due Ma da nazione Ma siamo pazzi Vai 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 Portaci allo stadio Dei backers Mi sa che ho letto Vabbè pazienza Non ci importa dove devono andare Solo che allo stadio No Ha sbagliato strada No Ci fermiamo con crazy taxi Perché altrimenti continuiamo all'infinito E già ci siamo prolungati sul primo e secondo Ci dobbiamo contenere un po' Perché altrimenti dura 25 minuti il video E l'è decisamente troppo No certo certo Quindi speriamo che vi sia piaciuta questa cosa Mettiamo sia sondaggio per i prossimi tre giochi Sia sondaggio se appunto vi è piaciuta questa idea Esatto Ovviamente scrivetecelo anche nei commenti Lasciate tanti likes E ci fermiamo così Spero che se ci riesce così Se ci piace E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdermi gli altri fisoni Ciao E alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.